Stiamo allenando come una squadra che ha voglia di far vedere quello che siamo capaci di fare perché come abbiamo visto contro Klagov abbiamo fatto bene, poi è stato quello scivolone a Graz però daremo tutto quello che abbiamo costruito in questa settimana. Cosa c'è da cambiare principalmente? Forse l'approccio alla partita da quello che si è visto in queste prime uscite? Sì, i primi sei minuti come è stato detto abbiamo visto a Graz non sono stati dei migliori ma non solo lì, anche le partite precedenti non è stato un inizio giusto per la squadra che siamo e sicuramente dovremmo migliorare quello. Dobbiamo avere un miglior start, sicuramente. Se è da nostra preparazione o prima del gioco, dobbiamo cercare questi primi minuti per arrivare e essere pronti e cercare di ottenere il primo gol. Io credo che abbiamo fatto questo contro Klagenford e questo ci ha aiutato davvero tutto il gioco e abbiamo mantenuto il momento, quindi cercare di ottenere il primo gol è molto importante per noi. Cosa pensi di che Viena sia uno dei migliori team della squadra? Sì, non so molto sui loro, ho avuto un po' di loro, ma ho avuto un po' di loro, in questo gioco, e abbiamo competito con loro, quindi ho aspettato a uscire con Viena e avere una buona giusta per la squadra. Grazie. 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 Grazie.